E' ora il dibattito politico che si concentra sul DDL ZAN con l'ultimo tentativo di mediazione nella maggioranza da parte della Lega. Nel pomeriggio è previsto infatti il vuoto in Senato sulla calendarizzazione in aula. Sentiamo i servizi di Barbara Romano e Maria Antonietta Spadocia. Scorre sul filo del rasoio l'iter parlamentare del disegno di legge ZAN che lacera il centro-sinistra. Renzi chiede con Salvini di modificare il provvedimento sull'omotransfobia rimuovendo ogni riferimento all'identità di genere mentre PD, Leo e 5 Stelle vogliono che il testo resti così com'è. Stamattina ultimo tentativo di mediazione al vertice dei capigruppo della Commissione Giustizia al Senato. Siete disposti ad accettare la richiesta di modifica del DDL ZAN avanzata da Renzi? Noi pensiamo che questa legge vada approvata in questa legislatura. La maggioranza che ha approvato alla Camera quel testo c'è anche al Senato. Noi vogliamo andare a votare quel testo. Dall'esito del vertice dipenderà il voto in aula oggi pomeriggio sulla calendarizzazione del DDL ZAN il 13 luglio. Voto che potrebbe slittare su richiesta di Italia Viva e centro-destra. Resta l'incognita Renzi che minaccia di far mancare i voti decisivi dei suoi senatori se il testo non cambia. E oggi polemizza con Chiara Ferragni che è di legge il leader Italia Viva. Mi aspettavo di più di una frasina banale qualunquista replica Renzi. Finché la legge passi è necessario che ci siano i numeri in Senato. Quindi bisogna creare le condizioni di unità per fare una legge di civiltà e che sia approvata. Basta Giochetti attacca Letta che annuncia. Il PD rinuncerà al voto segreto. Il sospetto che serpeggia il Nazareno è che il leader Italia Viva voglia affossare il DDL ZAN. Anche i 5 Stelle rifiutano la proposta di compromesso avanzato da Renzi. Chi ha cambio di idea è invece Italia Viva che oggi chiede delle modifiche facendo sfondo alla destra. Il nostro programma rimane invariato. Dobbiamo andare in aula il più presto possibile come concordato. Alla ricerca del compromesso in Senato il presidente della Commissione Giustizia Ostellari che presenta il capigruppo di maggioranza un testo di modifica del disegno di legge ZAN. L'appoggio del centrodestra di governo c'è a sinistra Italia Viva a guardare con interesse. Un tentativo, questo annunciato giorni fa da Salvini che in prima persona aveva provato a mandare messaggi al segretario PD Letta. Una legge di tutti e per tutti. Questa è la sua idea. Noi votiamo questa legge, basta che il PD tolga l'ideologia, quindi i reati di opinione, la censura, il bavaglio e tolga le scuole elementari e i bambini dalla contesa politica. Senza questa mediazione, ne è convinto Lupino e con l'Italia, i 5 Stelle e il PD rischiano di affossare la legge. Chi alza i muri ideologici, insiste Ludici dei Poli, si assume questo rischio e di compromesso parla anche Tajani, Forza Italia. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete per incrementare le sanzioni nei confronti di chi usa violenza, o visti che la violenza contro persone omosessuali o per ragioni legate all'orientamento sessuale. Guarda oltre la leader di Fratelli d'Italia Meloni, basta ipocrisia, l'Europa blocchi i rapporti commerciali con i paesi omofobi. La proposta è il DDL-ZAN, insomma, per Giorgia Meloni non va per queste ragioni. Nel tentativo di combattere una discriminazione se ne crea un'altra, perché nella legge ZAN ci sono una serie di cose che nulla hanno a che fare con la lotta alla discriminazione. Siamo all'economia con la conferma che arriva dall'Assemblea dell'ABI che la crescita economica sarà sostenuta. Ce ne parla Giovanni Nicoletti.